per presentare la serata youtube il mercoledì solitamente c'è la serata youtube è così chiamata perché prendiamo questa bellissima videocamera come la parliamo? prendiamo la videocamera e per chi vuole si può far riprendere e poi tutti i video andranno su youtube il video è anche sul sito del vecchio Frank perché è questo qui quindi a parte che è una cosa carina e poi il giorno mi chiedo insomma la pressione insomma la pressione mi chiede che già ci siamo infatti da tutti infatti questo video non ci sono mi sono rovinando no che da sotto pronto Amrìa? vediamo che la voce esce pronto Alì? sì non ci sono Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.